Il GOI Plastic Less Milk Sustainability ha studiato strategie per ridurre la plastica impiegata nella conservazione dei foraggi, insilati e fieni. Per la copertura degli insilati sono stati testati materiali low plastic. Confrontando due sistemi di copertura in trincea, convenzionale e barriera totale all'ossigeno con film compositi a spessori ridotti, si sono valutati tempi di posa, durata e resistenza dei teli con diversi sistemi di allestimento, oltre agli effetti sulle caratteristiche fermentative, sanitarie e nutrizionali degli insilati. Lo studio ha evidenziato una riduzione del 52% delle quantità di film plastici monouso in trincea, ed il 60% dei tempi di copertura. Per la fienagione sono state testate reti a minor contenuto di plastica, meno 15-17%, rispetto alle più diffuse. Il confronto è avvenuto con diversi foraggi e cantieri di raccolta, sino alla fase di stoccaggio e uso in stalla, dimostrando che le reti low plastic garantiscono performance di resistenza e stabilità dei balloni, analoga alle convenzionali, senza alterare la conservazione e la sanità dei fieni. Una campagna di interviste agli allevatori ha permesso di quantificare la plastica che viene utilizzata in azienda e i metodi di gestione. Le strategie di riduzione e recupero sono state comunicate attraverso giornate dimostrative e focus group rivolti agli stakeholder, per sensibilizzarli sul tema. Plastic Less Milk Sustainability Ridurre le plastiche per tutelare l'ambiente